L'anguilla dov'è? E' qua, questa? Olimpia, che ho già preparato io il piattino. Ah, grazie. Lo sai che sono molto felice che sei venuta? Sì, anch'io sai. E' buona? E' buona, sì. Senti, però, con questa bella musica, mangiamo dopo. Andiamo a ballare. Senti, vado a mangiare qualcosa, mi è venuto un po' di fame. Mi aspetti un momento, continuo a ballare. Sì, sì, sì. Ti piace questa collana? Bella. Ne ho una uguale anch'io. Infatti è la tua. Sai, Gilda, a me non mi sono mai piaciuti i regali riciclati. Quindi eri tu? Ero. L'ho mollato. Per la collana? Eh. No. E' un tronzo. Senti, Olimpia. Io lo so che sei arrabbiato. Anche se non so per cose. Ma non è che lo puoi perdonare? Ah. Lo devo anche perdonare? No. Peccato. No. Grazie.